Oggi ti mostro lo strumento più potente e dettagliato per salvare contenuti dentro Notion. Non è l'estensione di default, l'estensione base di Notion, ti permette di salvare molte più cose nel database che preferisci, di prepopolare i campi, le proprietà dell'elemento che salvi, quindi è estremamente più sofisticato ed è gratis. C'è una versione anche a pagamento, ma la versione gratis fa veramente tante cose. L'estensione di cui ti parlo è questa, si chiama Save to Notion, ha anche il suo sito in cui puoi vedere il prezzo che è 3 dollari al mese, è disponibile per Chrome e per Firefox e puoi utilizzarla per tantissime cose, come per esempio salvare pagine da leggere più tardi, salvare elementi di pagine su cui vuoi ritornare in futuro, annunci di lavoro per esempio. Allora, cliccando sul pulsante per scaricare Notion da Chrome, finisci su questa pagina e la installi come qualsiasi altra estensione per Chrome. Ovviamente io uso Brave che è un altro browser che è basato su Chrome, ma in sostanza il funzionamento è lo stesso. La prima cosa da fare è un filo noiosa e troverai, dopo aver installato l'estensione, quest'icconcina Notion Saver qui in alto. Quando l'apri su una pagina già salvata, ecco, viene un po' coperta. Apriamola su una pagina che non ho salvato così, ecco. Questa è l'estensione. Zoomiamo. Io ho già un po' di elementi che tu non troverai quando la userai per la prima volta. Prima, prima, prima di cominciare a usarla, clicca qui sulla i e si apriranno le impostazioni. Puoi creare il tuo account ed entrare. Nella versione gratuita non so quanti vantaggi ti dia. Ci sono un paio di funzioni pro che non sono disponibili all'inizio. e poi ti consiglio di attivare questa opzione, Change Extension Icon for Saved Pages, così non ti troverai a salvare due volte la stessa pagina. Questo è fantastico, perché con altri tool in passato, tipo Evernote, mi capitava di salvare due volte la stessa pagina. E poi di mostrare le opzioni in beta. Attivalo, non distruggeranno il tuo computer, così ti ritrovi sempre con la cosa più avanzata possibile. Poi puoi scegliere il formato che preferisci all'interno di Notion per salvare gli highlights. Quindi se tu selezioni una parte di testo e poi clicchi Save to Notion, lui te li formatterà o come quote, come citazione, o come un pezzo di codice, o come bullet point. E questo, insomma, è a tua preferenza. Poi molto interessante puoi anche esportare i tuoi dati, che vuol dire esportare i template, che ti farò vedere tra un attimo. e questo ti permette di, per esempio, riutilizzare velocemente l'applicazione, l'estensione, quando passi ad un altro computer e devi reinstallarla. Se non hai la versione a pagamento, che ti permette di sincronizzare tu su cloud tutti i dati, così non hai bisogno di fare niente manualmente. Poi lo sviluppo è attivo, quindi eventualmente puoi contattare la sviluppatrice, che è una donna, per chiedere informazioni, eccetera. Il fulcro di questa estensione è che tu puoi creare dei template per salvare le pagine. Allora, andiamo su una pagina, non questa che l'avevo già salvata, vedi che me lo stava dicendo qui. Scegliamone un'altra, questi sono i miei articoli su Medium in inglese. Ecco, questa non l'avevo salvata e diciamo che voglio salvare questo articolo perché mi interessa e tengo nel mio database di Notion, appunto, una serie di articoli che voglio conservare per il futuro, così, interi, con tutto il loro contenuto. Allora, io, allora, lo chiudo e lo riapro, così facciamo tutto il processo, apro l'estensione e non uso i miei template perché facciamoli passo passo, clicco su Add New, lui lo chiama Form e posso decidere tutto quello che mi serve per poter salvare questo articolo. Il primo passo è selezionare una pagina o un database, quindi molto interessante, puoi salvarlo dentro una pagina oppure dentro un database. Attenzione che ogni volta che poi userai questo form userai nello stesso pagina, nello stesso database. Quindi hai bisogno su Notion di un database. Allora, io ho questo database che ho creato apposta per questo tutorial, per facilità, e supponiamo sia il mio database degli articoli e quindi ha il titolo dell'articolo, la fonte, quindi l'url, l'argomento, che sarà sostanzialmente un tag, e la data, la data in cui l'ho salvato. Diciamo che vuoi salvare queste informazioni qui. Allora, torno sul mio nuovo form, quindi, proviamo a riaprire per essere sicuri che carichi il database che ho creato sul momento, e quindi new form, select page of database, e chiaramente io posso andare a cercare qui dentro, l'avevo chiamato save to Notion, e lui lo cerca e dovrebbe trovare il mio database. Eccolo qua. Quindi decido che voglio salvare questo contenuto dentro il database. Ora vado a nascondere la mia faccia perché altrimenti non si vede bene. posso decidere di salvare come un bookmark, quindi solo sostanzialmente l'url, oppure estrarre l'intero contenuto, ed è quello che volevo fare dall'inizio, quello che ti avevo descritto all'inizio. Quindi clicco, estraggo, estrai il contenuto, e a questo punto lui ha trovato i campi che c'erano dentro il database, ma mi permette di inserirli come pescando i dettagli dalla pagina. quindi in automatico mi ha messo in titolo il titolo della pagina, quindi dinamicamente prenderà il titolo che si vede qui sopra in alto e lo metterà dentro il campo titolo, è esattamente quello che voglio, quindi va bene. Poi ha un campo che inserisce lui si chiama content image e lui prenderà l'immagine della pagina e qui devi fidarti un pochino che chi ha creato questa pagina abbia fatto bene il suo lavoro nel scegliere l'immagine, nell'impostare l'immagine. Puoi decidere eventualmente di usare un template per questa pagina se hai già definito un template dentro il tuo database io non ce l'ho quindi non mi interessa e in questo senso eventualmente posso nascondere il campo perché non mi interessa. Poi ci sono altri due campi in cui uno è quello che ho appena nascosto e uno è la fonte che prenderà la pagina dell'URL chiaramente e poi se voglio posso aggiungere io i miei campi. Allora questo del template non mi interessa quindi lo rimuovo ne aggiungo un altro e vedi che io avevo l'argomento e avevo la data allora come argomento lo lascio lo lascio vuoto quindi in realtà non mi interessa ma ne prendo un altro la data e voglio mettere la data di oggi però purtroppo lui non prende today come data vedi quindi anche questo in realtà non lo posso inserire dentro il template quindi mi terrò queste tre informazioni clicco su save e quindi ho questa cosa che si è chiamata save to notion perché è il nome del database da cui da cui sto partendo se clicco qui quindi ho la estensione aperta clicco sul nome del quello che lui chiama form e mi dà un'anteprima di quello che sta per andare a salvare ovvero il titolo è questo qui che l'ha pescato dal titolo della pagina l'immagine ha preso l'immagine iniziale e c'è un campo in più che è la fonte e ovviamente ha pescato l'url da qua sopra poi io posso salvare la pagina oppure dirgli di salvare la pagina e chiudere il pop up io clicco sempre di salvare la pagina perché adesso ti farò vedere il perché e posso decidere anche di salvare tutto l'articolo di non salvare niente di questa pagina quindi salvare solo questi campi o o di salvare custom se clicco su custom lui mi permette vedi di selezionare un elemento della pagina lui usa l'html sostanzialmente per capire la struttura della pagina e permetterti di cliccare cosa vuoi salvare quindi se vuoi salvare solamente una paragrafo per esempio puoi cliccare su quello se la pagina ha una struttura molto complicata allora questo ti aiuta a scegliere solo le parti che ti interessano di più facciamo l'esperimento di scegliere solamente questa cosa poi io posso andare posso andare a confermare e vedi che ho un clip ma se voglio posso cliccare su add new clip e andare a pescare un altro clip quindi se uso article mi salva l'intero articolo se uso custom posso scegliere singoli clip dell'immagine della pagina molto interessante quindi clicco su save page chiaramente qua in alto posso andare a modificare il form se voglio clicco su save page lui la salva è abbastanza veloce se voglio la posso aprire nell'app desktop che io non uso ce l'ho installato ma non la uso oppure posso direttamente aprire la pagina in Notion questo è un passaggio molto utile perché io clicco su open page in Notion e lui mi carica automaticamente la pagina che ha appena creato nel database save to Notion e c'è la fonte e tutto quanto ma io voglio subito inserire l'argomento dentro la pagina perché adesso ce l'ho fresco e quindi mettiamo AI e quindi ho il mio argomento e la data è quella di oggi che mi basta fare un click quindi nel form non ho potuto specificare l'immagine e la data perché sennò mi metterò la stessa data per tutti gli articoli che salvavo ma aprendo immediatamente la pagina ho potuto salvarla al volo e come funzionano i clip? vedi mi ha salvato un solo clip forse non avevo confermato il secondo e sono salvati in questo modo con quello che credo sia un call out e quindi l'iconcina insomma superfluo ma c'è e poi il testo che mi interessa e quindi se avessi più clip ci sarebbero più riquadri di questo tipo qua ora puoi vedere che la icona della estensione ha la spunta verde perché mi dice che questa pagina l'ho già salvata così non andrò a salvarla due volte per completezza però ti faccio vedere cosa vuol dire salvarla con l'articolo intero e quindi non custom ma article clicco su save page lui adesso mi salva un'altra pagina non me lo impedisce anche se l'avevo già salvata e gli chiedo di aprirla adesso in notion ho sempre il titolo sempre l'url ed eccolo qui l'intero articolo formattato in notion molto interessante un'altra modalità è quella di salvare all'interno di una di una pagina dicevamo non all'interno di un database quindi vediamo se ho una pagina libera in notion una pagina che posso usare così per fare un esperimento vediamo no creiamo una pagina extra e la chiamiamo pagina save to notion ecco qui vado sul articolo di nuovo clicco per salvare e creiamo un nuovo form guarda che gentile comunque no che ci fa vedere che la pagina è già stata salvata e addirittura ci permette di aprire da qui in quale pagina l'abbiamo salvata è estremamente intelligente vado su aggiungi nuovo form di nuovo e seleziono una pagina vediamo save to notion cosa mi restituisce perché la ricerca dovrebbe usare la ricerca di esatto di notion quindi trova tutto cosa vuol dire salvare l'articolo in una pagina save to notion non posso estrarre il contenuto vedi posso inserire solo il bookmark quindi come titolo prenderò il page title e clicco save e go back allora proviamo a cliccare su questa pagina save to notion clicchiamo tutto l'articolo e poi save page ovviamente va a salvarla apriamo la pagina chiudo un po' di altre cose che ci distraggono intanto e vediamo cosa ha salvato vedi all'interno della pagina save to notion c'è questa cosa qua però non ha salvato l'intero articolo quindi questa funzione è un po' è un po' strana probabilmente è un errore la possibilità di poter scegliere l'articolo in sostanza ti salva solo il titolo e l'url ok ci sono chiaramente mille usi possibili per questa cosa qui tu potresti usare il template save to notion e salvare l'intero articolo solo per andare a leggerlo più tardi read it later no è una funzione tipica vai a leggere una newsletter che è troppo lunga allora te la salvi intera e la metti nel tuo notion per salvarla in futuro vedi che se io adesso vado sul mio database che si chiama save to notion eccolo qua ci sono tre salvataggi e questo qui dovrebbe essere il più recente che ha l'intero articolo e me lo vado a leggere ma anche il precedente no era l'intero articolo me lo vado a leggere a posteriori altrimenti io come puoi notare ho una serie di form di cui uso i primi due in realtà gli altri erano esperimenti il primo si chiama freelancing lo uso per salvare dei degli annunci chiamiamoli di lavoro non sono proprio annunci di lavoro per lavori di scrittura in inglese e quando ne trovo uno inserisco catturo automaticamente vedi il titolo e metto come status not started perché non mi sono ancora candidato non l'ho considerato e poi vado a mano a copiare l'email e la data di scadenza per sottomettere i miei articoli oppure ztelkasten ho fatto un video su ztelkasten tempo fa su Notion lo trovi linkato in descrizione e questo modulo questo form mi permette di salvare qualcosa che sto vedendo nella pagina come hai visto un attimo fa per gli articoli e usa il template untitled che popola già la nota ztelkasten in questo modo qui adesso te ne faccio vedere una nuova ecco qui è l'untitled del default e quindi mi aggiunge alcuni pezzetti alla nota nel mio sistema ztelkasten che mi servono in tutte le note questa funzionalità qui template mi permette di applicare il template ad ogni nota in automatico e se voglio uso il custom la modalità custom per selezionare la pagina che mi che mi serve meglio la parte della pagina che mi serve che è la cosa che di solito faccio con il ztelkasten quindi riassumendo per usare save to notion vai su save to notion punto so oppure semplicemente cercalo nel chrome web store lo installi attivi cliccando su adesso non mi permette ecco cliccando sulla estensione la i attivi le funzionalità change extension e show clipping options version 2 e poi vai a creare i tuoi moduli ovviamente i tuoi moduli dipendono da come vorrai usare save to notion read it later salvare interi articoli salvare pezzi di articoli salvare immagini nella tua galleria di ispirazione per esempio ma puoi farlo ti ho fatto vedere dagli articoli ma chiaramente lo puoi farlo da un video di youtube lo puoi fare da una email su gmail eccetera questo qui è l'estensione più sofisticata per aggiungere cose su notion che inoltre ricordati sempre ti permette anche di andare a modificare subito la nota per avere esattamente tutte le informazioni che ti servono sul momento senza dimenticartele in futuro se questo video ti è stato utile clicca mi piace istantaneamente che permette a youtube di capire quante persone apprezzano questi video e di far crescere il canale e questo mi rende molto più facile creare ulteriori video se hai domande curiosità richieste di altri video eccetera usa i commenti perché rispondo sempre e ricordati sempre perché abbiamo tantissimi video su notion trovi il link alla playlist nella descrizione di questo video grazie mille alla prossima ciao